Arriverà una nuova sala operatoria integrata, da come mi risulta sarà la prima nel Triveneto e una delle poche in Italia. Veramente una cosa molto molto interessante. Una sala operatoria unica nel suo genere, la sola del nord-est. Arriverà a Bassano grazie al lavoro della Onlus Helios che in pochi mesi è riuscita a raccogliere risorse importantissime per regalare al San Bassano una sala operatoria intelligente, digitale, che garantirà una chirurgia di precisione mini-invasiva e darà al paziente un decorso post-operatorio molto più rapido. Ma non solo, grazie alla fibra ottica darà la possibilità di collegarsi con qualsiasi studio o sala operatoria sparsa per il mondo, permettendo così consulti con i massimi esperti in tempo reale. Il medico potrà assistere anche all'intervento anche da fuori dalla sala, anche se dovesse trovare a Milano o dovesse essere a Londra o dovesse essere in qualsiasi parte. I reparti saranno collegati tra di loro, se il radiologo deve fornire qualcosa al medico che sta operando lo fa in diretta. La sala è destinata a tutti i professionisti chirurghi trasversalmente. Non è solo per l'urologia, ma va bene per la chirurgia generale, va bene per qualsiasi cosa che c'è da mettere in mano. Un risultato importante, una partnership pubblico-privata che rafforza l'Ulse della Pedemontana. Ci vorranno alcuni mesi per predisporre la nuova sala operatoria, poi al San Bassiano si accenderanno le nuove lampade scialitiche. Sono convinto che da marzo sarà operativa e sarà il fiore all'occhiello del San Bassiano.